Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 29 aprile. Ariete, ecco un altro giorno come un altro, che noia! Il pensiero vola al weekend da cui purtroppo vi separano anni luce di impegni e seccature. Avete ben altre ambizioni e le attività di routine sono troppo ripetitive per i vostri gusti, ma il dovere chiama. Toro, rafforzata dal trigono di Plutone, la luna vi regala il meglio di sé in quanto buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo, giornata perfetta per pianificare lavori di ristrutturazione, sperimentare ricette dietetiche ma appetitose. Gemelli assediati dalla luna in vergine, oggi tutto vi va stretto. Il lavoro a seguire la famiglia, il partner e voi stessi, siete tesi e nervosi. Per rilassarvi orientatevi verso un buon libro, di la buona musica e quattro chiacchiere con un amico. Cancro, grazie alla luna in vergine, viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l'aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia. Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma nelle faccende pratiche sarete risoluti e costruttivi. Discussioni in merito a un'eredità o alla gestione di denaro comune in cui dovrete difendere i vostri interessi. Vergine, in transito nel vostro segno, dove raccoglie le energie positive di Plutone e garante di buon umore, la luna riesce a deviare il raggio ostile di Venere. Un imprevisto si trasforma in un'opportunità fortunata, una multa scampata per il rotto della cuffia. Bilancia, le finanze e l'economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, meno affidata all'improvvisazione e all'appoggio della fortuna. Evitate di isolarvi e fate partecipe chi vi sta vicino delle vostre perplessità, desideri e speranze per il futuro. Scorpione, la luna in vergine con la complicità di Plutone, vi fa sentire sereni e beati. Buon umore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata. Inviti, feste, doni a sorpresa e, considerata l'abbondante dose di fortuna, forse anche una piccola vincita. Sagittario, la vostra simpatia oggi non colpisce nel segno e non basta salvarvi da un superiore inflessibile e dal disbrigo di compiti noiosissimi. Un viaggio o uno spostamento andrebbero fissati per la serata, in modo da poter partire più tranquilli. Capricorno, la luna armonica a Plutone, dona concretezza alle vostre iniziative e garantisce successo a tutti i programmi, d'amore, di viaggio o di lavoro. Giornata tutta dedicata alle faccende di casa, tra una cosa e l'altra rilassatevi fra le braccia del partner. Acquario, costretti a volare rasoterra dalle contingenze odierne e da qualche problema che vi toglie il sonno, lanciate evidenti segnali di insofferenza. Vagheggiate spazi aperti, cullate sogni di libertà e vi complicate la vita, rincorrendo ciò che non si può avere. Pesci, malintesi, imprevisti in viaggio, la sensazione di disagio, una malinconia infondata, sono il frutto della quadratura luna-venere. Malumori e disaccordi sono dovuti a scocciature varie, ma non arrendetevi, date battaglia a colpi di sorrisi.